dal team International Fight Gym Anuman Contest Pro con 16 vittorie di cui 3 per capò 6 sconfitte e 3 pareggi all'angolo blu Damiano Ardigo lo sfidante dal team Seconds Out con 16 vittorie di cui una per capò 9 sconfitte e 5 pareggi all'angolo rosso Antonio The White Ape Gicco la sconfitte e 5 pareggi la sconfitte e 5 pareggi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.